Ok, nella prima parte oggi abbiamo un ospite un po' diverso da quelli standard canonici Perché è un cantautore, un giovanissimo ragazzo che fa il cantautore Che ama la musica e come d'altronde, insomma, quasi tutti quanti amiamo la musica Però ovviamente lui ne sta facendo una professione E ha scritto un bellissimo pezzo che si chiama Future Quindi si parla di futuro, parla di speranza E con qualche riferimento anche alla situazione del cambiamento climatico E' un piacere avere qui con noi Giuseppe D'Angelo Ciao Giuseppe! Ciao a tutti, buonasera, grazie a Gabriele e a Green Staff per l'invito Ma ci mancherebbe altro, è un piacere per noi avere te qua Anche perché, cioè, di solito facciamo degli argomenti un pochettino pesantuccio all'inizio Invece oggi con te partiamo in scioltezza Invece parliamo di qualcosa anche di allegro Perché, insomma, i giovani di oggi non devono rinunciare ai loro sogni E tu sei uno di quelli che non ha rinunciato al suo E sta andando avanti nel suo percorso, no? Sì, sì, assolutamente Il mio percorso è iniziato tantissimi anni fa Con lo studio della chitarra classica, poi di canto moderno E pian piano, ecco, ho fatto diverse esperienze artistiche Sia in ambito musicale che teatrale E sono riuscito poi dopo a formare una band Con la quale ho realizzato un EP Che è disponibile su tutti gli store digitali Grazie all'etichetta Sound Management Corporation E siamo riusciti a pubblicare questi brani dal 2020 ad oggi E Future è uno di questi Siamo riusciti a pubblicarlo ad ottobre del 2020 Com'è questa scelta di cantare in inglese? E allora, io oltre agli studi musicali Mi sono anche laureato in lingue Quindi ho seguito due percorsi Perché il mio sogno era realizzare, unire, fondere Il mondo appunto dell'ambito ovviamente umanistico, linguistico Con quello musicale Sono sempre state le mie passioni forti sin da ragazzo E quindi in prospettiva avevo questo sogno da realizzare E quindi amo viaggiare Amo in generale anche la natura, in generale la musica Quindi tutto ciò che ha a che fare con l'ambito appunto umanistico Allora no, l'inglese ovviamente è una delle lingue più importanti al mondo È il codice per eccellenza Ormai in tutti gli ambiti Ormai è ultra utilizzato Gli anglicismi sono presenti ormai ovunque Tantissimi Vengono utilizzati tantissimo Io addirittura ne invento Giuseppe Perché io abito a Londra E quindi poi mi capita di Per esempio quando una cosa mi cade dalle mani Mi droppa Mi dico che mi droppa In realtà Non dico più mi è caduto Mi è droppato dalle mani È un po' cose strane Sì, ormai è entrato Ormai nel lessico quotidiano Nelle nostre trame proprio linguistiche Ormai anche nella cultura Ormai siamo proprio dominati Dall'ambito ovviamente anglofono Ma diciamo in questo senso E quindi mi sono cimentato Nella scrittura di un testo in inglese Cosa abbastanza difficile Però ecco La spinta di credere ovviamente In questa tematica del titolo Anche del termine che ho scelto Proprio future Quindi mi ha aperto un mondo E quindi tutto il discernimento Che ho fatto nel processo di scrittura E anche composizione del brano Mi ha aiutato sempre di più E questo testo appunto Vuole raccontare la speranza Di un futuro migliore Per i tanti giovani Che lottano sempre di più Ora più che mai Con questa situazione appunto Della pandemia E quindi in prospettiva Anche il collegamento ovviamente Con un futuro ecosostenibile Con le energie rinnovabili Che dobbiamo ovviamente Crederci sempre di più E gli investimenti dovranno essere indirizzati Soprattutto su questo E nel testo di questa canzone Ho specificato proprio Di mettere via le parole stupide Che circondano la nostra mente E di lottare E sperare e credere In un futuro migliore E dobbiamo tutti quanti farlo E dobbiamo tutti quanti farlo Sia a livello individuale Perché è giusto Che ognuno per sé Ha i propri sogni E li arriva a conquistare Ma poi in termini generali Riuscire a cambiare Un pochettino l'inerzia Di questo mondo Che sta andando Che sta andando verso Insomma Situazioni abbastanza pericolose Diciamo così Con questa CO2 Ma quindi Sì infatti Fammi Ti faccio un po' di domande Anche un pochettino più Come vedi La percezione dei giovani Perché tu sicuramente Sei più giovane di me Quanti anni hai Lo possiamo dire Io ho 33 Allora non sei più giovane di me Dai dai Ti ho battuto Sono un anno più piccolo Secondo te Secondo te Secondo te Come I giovani Come si stanno Rapportando Alle tematiche ambientali Riguardanti Appunto Il cambiamento climatico Ma non solo Allora Sicuramente L'iniziativa Di Greta Thunberg È stata Ecco Un grande spartiacque No È riuscita Con lungimiranza Qualche anno fa Con i Fridays for Future A guardare oltre E a guardare Da adesso Al 2050 Quindi Che il nostro pianeta Ormai è malato L'inquinamento È all'ordine del giorno E quindi Penso che adesso I giovani Si stanno rendendo conto Con queste nuove Associazioni Organizzazioni Che stanno nascendo Della sensibilità Di affrontare appunto La tematica Legata all'ambiente E al rispetto Per la natura In tutti i sensi Quindi Mi auguro Ecco che nelle scuole Si possa sempre di più Sensibilizzare i ragazzi Su questa tematica Giorno dopo giorno Perché ne abbiamo Veramente bisogno E rappresenta Una svolta Non solo Per la nostra Città Regione O quant'altro Ma è proprio global In questo senso Di tutto il pianeta Alla fin fine Assolutamente sì E di tutto quanto Il pianeta Assolutamente Sì Come dici tu Si stanno cominciando A muovere le cose Ma supportati Anche da Mi viene da dire Anche da Artisti Come per esempio Deco Quando scrivi una canzone Con un testo Che guarda il futuro Che è carico di speranza Carico di Di forza d'animo Perché è quella Che poi ti Ti spinge A fare Insomma A spingerti Oltre il limite A cercare di ottenere Insomma A raggiungere L'obiettivo E Sicuramente Si sta cominciando Forse Forse un po' Un po' lentamente Però si sta cominciando A delineare Insomma Sì sì Assolutamente Io ci ho messo Tanta tenacia Tanta forza Ovviamente Sai Passare dalla scrittura Classica Penna su carta E poi Portarla al gruppo Diffonderla Svilupparla L'idea Non è Non è semplice Ecco Qua adiuvare tutti E nel credere Ecco In una In una canzone Inedita Poi d'altronde Quindi il sogno Questo sogno Si è realizzato E ti racconto anche Un aneddoto Che ho avuto la fortuna Anche di presentare Questa canzone A Città della Scienza Io sono un artista Della provincia Di Napoli E quindi Grazie a un istituto Di cultura Napoletano Che si chiama appunto Italian Institute For Future Che appunto In un convegno Dedicato totalmente Alle tematiche Del futuro In ambito architettonico Nell'ambito Anche Dell'ingegneria Dell'ambiente Erano tante tematiche Affrontate da diversi Professionisti Del settore E invitarono Anche me A presentare Questa canzone Quindi Veramente Ne sono stato Veramente onorato E quindi Nel mio piccolo Ho cercato di fare Un qualcosa Per il prossimo Assolutamente Sì E continua a farlo Perché ti riesce Anche bene Insomma Eh ci provo Ci provo Prossimi progetti Noi progetti Futuri adesso Proprio in questo senso Continuare Con la scrittura Di nuovi brani E quindi In questo periodo Sto scrivendo Nuove canzoni E spero Al più presto Di tornare in studio E registrare Quindi Ecco C'è tanta speranza C'è tanta fiducia Che non dobbiamo Mai perdere E quindi Come Come l'araba fenice Dobbiamo Rigenerarci E E Avere come obiettivo Che ci sia Ecco Un futuro migliore davvero Perché adesso Possiamo ricostruire In tutti i sensi Una nuova società Fantastico Fantastico Va bene Gabriele Assolutamente Sì Noi speriamo Che tu faccia Altre canzoni Altre poesie D'amore Scritte verso la natura E verso questo Bellissimo mondo Ok ti ringrazio Gabriele Invito tutti gli ascoltatori A trovare Ecco Sia sul web E su tutti gli store digitali Il singolo Ad ascoltarlo Su Spotify iTunes Google Play Deezer E sul canale E sul canale mio YouTube E sul canale YouTube Della Sound Management Corporation Ovviamente io Nella descrizione Di questa diretta Ho messo Insomma I link I link Necessari Per andarti a trovare Soprattutto il tuo canale YouTube Così possono andare a vedere Insomma Anche Il La clip La clip Della tua canzone Ascoltate C'è anche la pagina Facebook C'è anche la pagina Facebook Dei Light Sounds Light Sounds Dovrei averla messa Dovrei averla messa Ho messo tre link Quindi sono Un bel like Ok un bel like Fa sempre piacere Un bel like Andate ad ascoltare Future Di Giuseppe D'Angelo Il cantautore Dei Light Sounds E Noi da parte nostra Ti facciamo Un grossissimo In bocca al lupo E Speriamo veramente Che la tua carriera Spicchi il volo Anche perché Di ragazzi che Cercano di costruirsi Una carriera Nel frattempo Senza dimenticarsi Insomma Dei problemi Che ci sono A livello A livello globale Sicuramente Tanto di cappello Per te Giuseppe Continua per la tua strada Noi ti auguriamo Tutto il meglio Tutto il meglio Sul serio Ti ringrazio Grazie di cuore Gabriele Grazie davvero Grazie a te Grazie a tutti Gli ospiti E alla prossima Allora ci sentiamo presto Assolutamente sì Ciao Noi poi ci sentiamo comunque Sui social Su Instagram Dove ci seguiamo A vicenda D'accordo Un abbraccio Buon proseguimento Un abbraccio Giuseppe Ciao ciao Grazie Ciao 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 Andate ad ascoltare Future La canzone di Giuseppe D'Angelo Perché parla veramente Di futuro Di speranza E mai come oggi Ne abbiamo Ne abbiamo bisogno Un abbraccio